Vi mostriamo ora la sequenza di esercizi in dinamica, partendo da The 100, il 100. Iniziamo con le battute, inspirando ed espirando. Passiamo ora al Roll Up. Passiamo direttamente al Roll Over. Passiamo. Passiamo quindi al Single Leg Circle. Passiamo. rolling like a ball single leg stretch double leg stretch up and down criss-cross spine stretch stretch Veccio Veccio Grazie a tutti.